Inizialmente sorridevo quando sentivo Melucci che parlava di rinascita o meglio quando ancora parla di aver seminato la rinascita e dopo il sorriso ti viene la rabbia, il senso di essere presi per i fondelli, sì perché Melucci per quattro anni e mezzo e tuttora sta prendendo per i fondelli cittadini di Taranto, raccontando, narrando una storia completamente inventata, quella appunto della rinascita e per chi avesse dubbio punto per punto, zona per zona della città faccio vedere come questa rinascita è solo una favola, un inganno perpetrato ai danni del cittadino contribuente. Ci troviamo in pieno centro, proprio nella zona centralissima di Taranto, nei pressi appunto della Villa Peripato, precisamente in via Giovinazzi, angolo diciamo con via Pitagora. Guardate questo è un bagno, era un bagno pubblico da anni completamente abbandonato, chiuso, vedete con tanto di catenaccio. Guardate il porcile che c'è all'interno, guardate in che condizioni si trova questi resti di un bagno. Guardate, non si sono degnati di ripristinarlo, ma non solo, almeno avessero avuto il buon gusto, il pudore di chiudere qui l'entrata, murarla per esempio, mettere una vetrata molto resistente, fare in modo che ovviamente non si potesse gettare all'interno di tutto di più. Ma immaginate voi cosa che immagine deve farsi il turista. Guardate, qui in questi giorni si sta tenendo appunto l'evento relativo al turismo, il business tourism management e quindi vengono da varie parti d'Italia, qui lo vedete e a pochi passi girano, fanno 30 metri, 40 metri e si trovano questo cesso, scusatemi l'espressione, ma la volgarità quando ci vuole ci vuole. È normale una cosa del genere? In una città, in una zona centralissima di Taranto è normale una cosa del genere? In occasione dell'evento sul turismo, giustamente si è approfittato per far sì che anche le aziende potessero far pubblicità attraverso dei pannelli, dei cartelloni. Quindi da un lato vediamo l'invito, le indicazioni sul business tourism management e dall'altro ovviamente l'azienda che è questa, la Corsini, non voglio fare pubblicità alla Corsini, ma è una cartellonistica pubblicitaria. Però, povero inserzionista pubblicitario che viene esposto davanti a un cesso del genere, ecco l'amministrazione Melucci con queste situazioni ha fatto scappare persino le aziende dal territorio, perché ovviamente un'azienda, forse poveretti non si sono neanche resi conto, ma avranno detto, ma scusatemi, dove dobbiamo fare la pubblicità davanti a un cesso? Questa è Taranto, questa è stata l'amministrazione Melucci, non ho parole. Cittadini di Taranto, l'amministrazione Melucci-Musillo, sottolineiamo Melucci-Musillo perché entrambi hanno governato, hanno amministrato. Musillo, che ora fa il verginello politico, aveva i suoi uomini, aveva le sue persone nelle società partecipate, aveva la cuginetta, assessore, quindi ora Musillo non può far finta di cadere dalle nuvole perché lui ha fatto parte per quattro anni e mezzo di questa amministrazione. Dov'eri Musillo quando qui questo cesso precipitava sempre più? Tu Melucci, dov'eri quando questo cesso precipitava sempre più? E ora cosa vieni a dire che hai seminato la rinascita, caro Melucci? Mettiamo qui un bel manifesto, qui accanto, abbiamo seminato la rinascita, lo mettiamo qui, di modo che i cittadini si rendono conto. Io sono molto democratico, può darsi che ci siano cittadini che credono a quello che ha fatto Melucci, credono pochissimi che Melucci abbia seminato la rinascita e penso poi che ce ne siano altrettanti che vedendo questo scempio e vedendo un manifesto accanto abbiamo seminato la rinascita, diranno abbiamo soltanto un sindaco che ci ha preso per il culo per quattro anni e mezzo. Scusatemi ma è la realtà. Volete dimostrarmi il contrario? Caro Melucci, vogliamo fare un bel confronto, un bel dibattito sul web o in tv? Tu scappi, tu te la fai sotto perché non vuoi fare un confronto, sai che perdi. Magari lo facciamo proprio qui davanti, caro Melucci, facciamo qui e parliamo di turismo, così i vari soggetti, i vari manager a livello internazionale di turismo vedono questa realtà e vedono anche questa e dicono come è caduta in basso Taranto con Melucci, altro che hai seminato la rinascita, tu hai soltanto seminato il degrado e te ne andrai a casa un paio di mesi. Adapassanuttat, diceva Edoardo.